Il settore ceramico italiano è un settore tipico del made in Italy, caratterizzato dalla presenza di molte piccole e medie imprese, che nonostante tante difficoltà riesce ancora a essere competitivo sui mercati internazionali e esporta oltre l'80% del suo fatturato. Per l'emission trading queste caratteristiche sono una penalizzazione, noi abbiamo a livello europeo il 10% degli impianti in emission trading, che però rappresentano solo l'1% delle emissioni. Quando siamo entrati nel sistema emission trading nel 2013, già era tanto tempo che si lavorava su interventi di efficienza energetica per un settore caratterizzato da una forte presenza territoriale, che investe molto. Nell'ultimo anno, nel 2015, sono stati investiti oltre i 250 milioni di euro, vuol dire il 7% del fatturato, a livello da settore high tech, più che da settore manifatturiero. In questo contesto l'emission trading si è rivelato più che altro una vera e propria tassa, è composta dalla componente diretta, l'acquisto delle quote, una componente indiretta per il consumo dell'energia, ma soprattutto una forte penalizzazione di oneri gestionali e amministrativi. Adesso stiamo guardando al periodo successivo, al post 2020, dove spieghiamo che non ci siano ulteriori penalizzazioni per i settori cosiddetti carpool leakage, cioè quelli che hanno un rischio dell'organizzazione, fra cui sicuramente l'industria ceramica italiana. Però è molto importante la proposta degli amici della Terra, perché continuare facendo finta di niente con il sistema mission trading, così com'è, guardare solamente una sua continuazione post 2020, ha poco senso per un paese manifatturiero come l'Italia, era invece molto importante aprire un dibattito, come fa la proposta degli amici della Terra, su quelle che possono essere delle soluzioni alternative. La proposta comporta delle complessità gestionali, per cui non la possiamo spostare in pieno, ma sicuramente ha il grande merito di aprire un dibattito su cui il nostro Paese deve darsi molto da fare e noi sicuramente ci saremo.